Continua ad essere un punto di riferimento per i cittadini e soprattutto per gli amanti della natura, l'oasi naturalistica di Trentova-Tresino. Nel polmone verde tante sono state le iniziative nel tempo di volontari cittadini e associazioni del posto per mantenere l'aria pulita e soprattutto più accogliente e interessante a quanti ogni giorno vi fanno visita. In questi ultimi giorni è stata predisposta un'aria sosta e picnic, fanno sapere da Palazzo di Città, un posto attrezzato tra natura e mare dove si può godere e spensieratezza della grande bellezza di un luogo unico. L'aria sarà inaugurata sabato 3 luglio alle ore 12. Grazie all'associazione Trekking Cilento e a Pietro Faniglione per l'importante lavoro svolto nella cura dei sentieri e nell'attrezzare la nuova area, dichiara il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola.